C'è una nebbia Dovelo aiutato adesso C'è un po' forse è meglio nel canale se ce la fai ci sono più sassi oh dai dai bene o male che ce l'hai fatta perché se dovevo aiutarti mi buttavo per terra e beh ma qui c'è poco da fare quando si riempiono tutti i tasselli oh i formicari figa guarda ma questi sono le formico si chiama termitaio non so come si chiama è un po' che non li vedevo penso che le facciano le formiche però dopo ce lo diranno guarda un po' guarda un po'